Si terrà sabato 28 agosto in piazza della Repubblica a Foligno la celebrazione per l'inizio del Ministero Episcopale del Vescovo Domenico nella Diocesi di Foligno. La chiusura della Cattedrale di San Feliciano e la necessità di trovare un luogo in grado di accogliere i fedeli nel rigoroso rispetto delle norme per il contrasto del Covid-19 hanno fatto cadere la scelta sulla principale piazza cittadina e sulla vicina piazza Matteotti dove sarà installato un maxischermo se lo permetteranno sia la situazione sanitaria sia le condizioni meteorologiche. In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà nella Pro Cattedrale di Sant'Agostino con limitato concorso di popolo. Per il programma completo consultare il sito diocesiassisi.it